Non si può essere cristiani senza lavorare continuamente per essere giusti. Papa Francesco lo ha ricordato con forza oggi durante la messa celebrata a Santa Marta. Partendo da un brano della lettera di San Paolo agli Efesini, il Pontefice ha invitato tutti ad avere una fede salda, continuamente alimentata dalla preghiera, nonostante le tentazioni e la pigrizia che non di rado circuisce i cristiani nella lotta contro il demonio. Davanti alla mondanità, all'invidia, alla lussuria, all'orgoglio, alla gelosia, Papa Francesco ha chiesto di indossare l'armatura di Dio che ci dà forza e ci difende. A questa generazione, ma a tante altre, ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Ma lo dice Paolo, non lo dico io, la parola di Dio lo dice. Ma noi non siamo tanto convinti. E poi Paolo dice, com'è questa armatura di Dio? Quali sono le diverse armature che fanno questa grande armatura di Dio? E lui dice, state saldi dunque, state saldi. Attorno ai fianchi la verità. Questa è un'armatura di Dio, la verità. Il diavolo è il bugiardo, è il padre dei bugiardi, il padre della menzogna. Grazie. 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 Grazie.